Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Il tempo è pronto a peggiorare durante il fine settimana per effetto del ritorno delle correnti atlantiche. Una forte perturbazione porterà a nubi fragili tra sabato e domenica, soprattutto sulle regioni centrali, poi persistenza delle correnti nord-atlantiche anche durante la prossima settimana in un contesto pienamente autunnale. Per quanto riguarda questo sabato, una giornata di transizione per l'Abruzzo. Adesso avremo un graduale aumento della nuvolosità, quindi al mattino ancora cieli poco nuvolosi, velati. Entro pomeriggio e soprattutto entro la sera avremo un netto aumento delle nubi, nubi per il momento medio-alte che non porteranno particolari fenomeni. Infatti i nubi fragili si concentreranno principalmente tra Liguria orientale e Toscana. Poi il tempo peggiorerà nettamente dalla tarda sera nel Lazio e dentro domenica su tutto l'Abruzzo. Insomma di questo ne parleremo meglio nel prossimo aggiornamento. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.